Care sognatrici, cari sognatori, seconda edizione di A Gianni Rodari, Via Latte a Quara Quarinci, il concorso di scrittura dell'INAF dedicato a Gianni Rodari. Gianni come giocate insieme a noi, narrate, immaginate. Rodari come rocamboleschi orizzonti, detriti astronomici, racconti infiniti. Che cos'è questo? Beh, un acrostico, ne volete uno a tema astronomico? Eccovi serviti. Meteorite! Ma eccoci tornati, e ora racconti, invenzioni, tante emozioni. A Gianni Rodari, Via Latte a Quara Quarinci, mi raccomando, partecipate numerosi! A Gianni Rodari, Via Latte a Quara Quarinci, mi raccomando, partecipate numerosi! A Gianni Rodari, Via Latte a Quarinci, mi raccomando, partecipate numerosi!